Doveva essere un trilaterale con i colleghi di Germania e Malta, poi inaspettatamente al mini vertice di Helsinki si è giunta anche la Francia. Quattro ministri degli interni, fra cui ovviamente Matteo Salvini, per discutere di migranti a poche ore dalla riunione informale dei ministri degli interni e della giustizia dell'Unione. Diversi temi in agenda, controllo dei confini europei, redistribuzione dei migranti e riforma di Dublino. In attesa di novità fa clamore il post su Facebook dello stesso Salvini che se la prende di nuovo con la capitana della Sea-Watch, Carol Arachete. La nuova eroina della sinistra, ha scritto la sua maniera e il leader della Lega nel post, è stata interrogata per quattro ore. Ci sarà un giudice che almeno stavolta farà rispettare le leggi, la sicurezza e la dignità del nostro paese? Io non vedo l'ora di espellere questa viziata comunista tedesca e rimandarla a casa sua.